Ciao, sono Andrea Di Feo, ho 24 anni, gioco nei maestri da tre anni ormai, siamo una squadra di amici, ci piace un sacco venire a giocare qui, quest'anno purtroppo puntavamo a salire in A per delle situazioni successi, non ce l'abbiamo fatta, però ci proveremo l'anno prossimo. Gioco a pallone, praticamente quando ho quattro anni ovviamente per me caccio al pallone, mi ho dato in cortile con gli amici, gli schini, partitine così, mentre il primo anno che ho fatto era la scuola calcio a 5 anni, a Giorgello, una squadra di corsico, lì ho fatto un bel po' di anni, ho vinto qualche campionato, mi sono tolto un bel po' di soddisfazioni, dopodiché ho girato altre 3-4 squadre ed ho finito a Cesano Goscone, a 16 anni ho finito presto perché poi ho preferito divertirmi e fare altro e quindi la carriera francistica è finita a 16 anni appunto, via Cesano, è una parte regionali, metà classifica. Il passaggio al set è avvenuto dopo qualche anno che eravamo fermi io e altri amici, che abbiamo smesso la stessa cavolata che ho fatto io appunto, andassi a divertire il sabato, la domenica sera, il venerdì sera e niente, siccome ci mancava quindi comunque siamo sempre andati a giocare a 5 piuttosto che partite e niente, volevamo ritornare diciamo abbastanza competitivi e abbiamo provato a buttarci appunto in un campionato a 7 e ci è andato a difendere. Di me come calciatore direi guarda che sono sicuramente un bel difensore, sono un bel difensore mastino, tecnica me la cavo ovviamente, piede da difensore però diciamo che me la cavo. Più che altro appunto tutto sulla grinta, che quella non manca mai anzi, forse a volte no, fin troppa. E quindi niente, tutto appunto sulla grinta e comunque sia sulla voglia che ho sempre e che ci metto quando sono in campo. Qualcosa che mi è mancato sicuramente è l'usare la testa. Io purtroppo quando gioco mi facevo prendere praticamente sempre dalla foga e non ragiono più, non mi passa più l'ossigeno e secondo me questo è stato uno, il principale difetto che ha fatto sì che appunto la mia carriera calcistica si sia fermata così presto e che tuttora quando gioco tante volte rischio gialli, rossi, squalifiche. Purtroppo è più forte di me. Quando entro sul tappeto verde non capisco più niente. Non mi riesco a fermare tante volte. Sono tifosissimo, tifo Inter e calcola che fino a qualche anno fa l'ho sempre seguita sia a San Siro che in trasferta. Ho anche lavorato per la curva quindi ero proprio, tutte le domeniche ero là. Grazie a Dio l'anno dei triplete sono riuscito a fare anche Londra, Barcellona e Madrid. Questo va da tutti e quindi mi posso ritenere fortunato. Te dico una nella carriera calcistica undici è stata una doppietta, non mi ricordo bene l'anno che fosse, però una doppietta su calcio di punizioni, quindi su due punizioni dove vincemmo quella partita ed era stra importante appunto perché eravamo verso la fine del campionato. Per quanto riguarda sette, in particolar modo zona goal. Penso che hanno fatto un goal che si ricordano tutti. L'anno scorso in semifinale dei playoff di Serie C contro un portiere davvero fortissimo che praticamente sembrava impossibile segnargli. Feci un goal praticamente da fuori aria, penso da almeno un 30 metri al volo sotto l'incrocio. e non me lo dimenticherò mai. Non penso solo io, penso anche il portiere e tutti quelli che erano lì al campo quel giorno. Quanto occupa il calcio nella mia vita? Direi penso il 99,9% anche perché io ho un negozio appunto di articoli sportivi specializzato calcio tra l'altro, quindi calcola che dalla mattina alla sera sono dietro queste cose, cioè sono il negozio che ho io, sono il proprietario e finito il negozio la maggior parte dei giorni gioco a pallone, se non gioco sono a casa c'è la Champions League, l'Europa League, il campionato, quindi sono sempre preso, quindi posso dire il 99,9% buono del mio tempo lo sfrutto appunto dietro al calcio. Per me il calcio rappresenta sicuramente lo sport più bello che ci sia ed è comunque secondo me un qualcosa che può riunire tante persone, tanti ragazzi soprattutto e secondo me è una cosa fantastica appunto, è quello sport che unisce tante persone, che tira dentro appunto gente come tifosi e così, quindi penso che possa dare un grande segno di amicizia e comunque di positività ecco. Ragazzi manca pochissimo la sfida con gli Stone Island, una settimana fa li abbiamo bastonati, mi spiace dirlo ma è la verità. Oggi purtroppo siamo in difficoltà nel senso che ci mancano tre dei nostri più forti giocatori, non fa niente, questi sono solo scusanti nel calcio, vediamo di tirare fuori le palle e cercare di battere un'altra volta e di incoronare il nostro sogno. Forza ragazzi che ce la possiamo fare! Buon maestri! oro Grazie a tutti